Mister Pizzoli, Martina che torna alla vittoria su un campo non banale per lei? Assolutamente no, noi venivamo è vero da qualche sconfitta ma chi ha visto le nostre partite si è accorto che ci è mancato quel cinismo, abbiamo avuto diverse occasioni anche col Brinzi, Casarano, abbiamo trovato un calendario sicuramente diverso da qua, però per noi è servito molto anche per crescere, per capire cosa bisognava fare in più, in meno, perché abbiamo trovato comunque squadre di grande spessore. Come quella di oggi dove sapevamo, non potevamo sbagliare nulla, sapevamo i loro punti di forza, abbiamo lavorato molto bene in settimana, abbiamo applicato alla grande tutto ciò che si era fatto, abbiamo cercato di chiudere le loro fonti di gioco e poi di chiudere con i raddoppi i giocatori che hanno grande qualità per poi ripartire e colpirli, perché l'intenzione era colpirli. Se vieni a Barletta e aspetti qualcosa non ti tocca quasi nulla, volevamo far gol, volevamo metterle in difficoltà e penso che alla fine il risultato sia giusto. Mister, ci ha colpito soprattutto l'organizzazione difensiva, avete rischiato solo su qualche palla inattiva? Sì, abbiamo cambiato qualcosa, oggi abbiamo fatto un 4-4-1-1 perché purtroppo nelle partite precedenti al minimo errore ci hanno castigato e ho cercato di creare più densità in mezzo al campo e più raddoppi sugli esterni. Ho spostato ancora dietro la punta, ho messo due punte mobili per sorprendere un po', perché loro comunque hanno i due centrali molto forti, però al tempo stesso se si sposta la palla si riesce a creare delle difficoltà e di lì la punizione del primo tempo. Mi dispiace perché abbiamo avuto quelle due palle gol nel secondo tempo all'inizio che ci potevano permettere anche di fare un secondo tempo ancora con meno sofferenza. Difesa molto alta, spazi, è una nostra caratteristica, tanti fuori gioco, abbiamo messo molte volte in fuori gioco, lavoriamo molto con l'area difensiva, è chiaro abbiamo commesso qualche errore nelle precedenti partite, ci sono alcuni giocatori nuovi e quindi il tempo di assemblarli, però la squadra quando siamo andati in pressione alta è normale che la difesa sia alta, cerchiamo di giocare in 30 metri, facciamo dell'organizzazione della nostra forza, abbiamo dei giocatori importanti indubbiamente, però ci sono anche tanti giovani, oggi ha giocato un 2004 a sinistra, abbiamo Pinto, l'esterno che è un ragazzo che l'anno scorso era il Castellaneta, ha fatto gol, è un ragazzo secondo me molto interessante, Lopez che cerca continuità di prestazioni come sta facendo, e poi abbiamo i due argentini in mezzo al campo che secondo me sono due giocatori importanti per la categoria. Dietro giochiamo con due under in questo momento e devo dire che stanno crescendo molto, oggi bene, più cinici sicuramente il risultato finalmente è meritato. Quanto conta psicologicamente questo tipo di successo anche per poi sfatare il tabù casalingo? Noi siamo, il fatto che abbiamo vinto due parite esterne contro anche una squadra come il Lavello, che comunque è un'ottima squadra, dimostra che per noi cerchiamo di fare in casa e fuori casa, abbiamo gli stessi concetti, cerchiamo di giocarcela, abbiamo giocato a vista aperto con il Casarano, vincevamo, poi due episodi ci hanno condannato, col Brindisi abbiamo fatto un tempo e mezzo nella loro metà campo, tante occasioni non siamo riusciti a segnare. Oggi sono contento anche per un dato, non abbiamo preso gol contro una squadra che diciamo è vero che non fa tanti gol, però difficilmente conclude una partita senza segnare per gli uomini che ha e quindi merito dei ragazzi, sono stati loro i veri protagonisti e quindi è giusto dare a loro i meriti di questa vittoria.